Quando fu libero, proprio non ti addestanti, la prima cosa che ci passava in mente, ma c'era uno a uno tutti quanti, cosa buonare fuori falsi e confedenti. Compagnicella, quando salutiamo, ma spero un giorno per me andaveremo, ormai in tala testa hai un piano, voglio la morte, il zocco l'ucaino. Ma dopo venti giorni a raso fuga, l'ambasciatore da Peppe c'errovao, vicino ai paraggi di Santo Luca, c'è questo uno che ha processo l'accusato, si tratta di Stefano Crea, lo suo nemico, facevo boscaiollo in talo loco. Allora Peppe partì in talo stante, tra gli sentieri boschi e dei limonti, era ora che con un famoso chiurino i conti, ma prima di un spara c'erì solo confedenti. Quando da cano uscì a malangeneggio, di presentare amici dal torraggio, a prima vista pariva un piccioteggio, che imbriagava il culo so' baccaggio. Un uomo tuoi curriva in buca a tutti, per il prestigio e finito il rispetto, e senza dire come sfida morti, io non capisco quale avvermenti, ti trasformano punve l'infamanti, facendo un uomo meo brutto serpenti, i giudici me condannano alle stanti. Monti con monti non si incontrano mai, ma fronte e fronte si io prima o poi, e ora che tu carcero scappai, me la pagari li traggete tuoi. Un tempo che passai in tradaccella, non fici altro che pensare a te, infamità un tempo ne cancella, pregava a Dio mi dai un faccia mia. Ora su cacomo l'abbia giurato, perciò un famone preparo tutto in butto, comandano uno cento carcerato, merda morti, mi moro ammazzato. Piggiava la scopetta Peppi a Carcao, sparato colpa, e a cui fu colpìo, ma si rendìo conto prestamenti, che non c'entravo a Crea, ma la sua amante, e un amico di Crea, un conoscente, e li tassau da un terra sanguinanti. E dopo un po' di tempo a sarlo aperto, a causa di Peppi ci fu un altro morto, un certo D'Agostino, che era certo, uno di chi di caffè fecevice un torto.